Colpo di fortuna da 20.000 euro con un biglietto gratta e vinci mega miliardario acquistato nel punto vendita di Coppi Valentino in via Dante Alighieri ad Agropoli. Il biglietto fortunato è stato acquistato nella mattinata di giovedì 19 dicembre. La vincita di 20.000 euro non sarebbe l'unica perché a quanto pare, nella stessa giornata di ieri, grazie all'acquisto di altri biglietti gratta e vinci, sono state vinte svariate citre inferiori a 20.000 euro. Anche i titolari del tabacchi sono contenti e orgogliosi. Tanti auguri al fortunato vincitore, scrivono su un foglio mostrando il gratta e vinci ed il numero che ha permesso di riscuotere la somma. Non si conosce il nome del vincitore della notevole somma di denaro, ma di certo quello che si sa è che grazie anche ad una buona dose di fortuna passerà delle liete festività natalizie e non solo.